Grazie a tutti. La partita di nuovo al campionato, lo scorso fine settimana sono saltate alcune partite rinviate sia per quanto riguarda la Serie A Beretta maschile che per quanto riguarda la Serie A Beretta femminile, ad esempio la partita a piano Bolzano è stata rinviata poche ore prima dell'inizio, comunque si è giocato, bella vittoria del Merano a Molteno, bella vittoria con un finale concitato del Bressanone sul Pressano, ma di questo veramente di tanto altro parleremo in questa puntata. Vado a presentare il mio ospite, Lorenzo Lollo Martelli. Ciao Lorenzo. Ciao Walter, grazie dell'invito. Benvenuto, dicevo una bella vittoria per voi. Per la classifica è una vittoria molto importante perché comunque diciamo che un eventuale sconfitto avrebbe potuto creare dei problemi a livello di classifica, fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa in maniera direi anche convincente con un ottimo primo tempo, un secondo tempo dove abbiamo sofferto sicuramente il ritorno del Molteno che avevamo comunque messo in conto e siamo stati bravi. Sicuramente una vittoria che ci può dare un'importante morale anche in ottica per le prossime partite. Ecco parliamo prima di parlare dei campionati, un doveroso ricordo, è mancato domenica Saracevic, giocatore storico campione del mondo con la Croazia, abbiamo anche qui due foto, una foto mentre giocava e una foto che lo ritrae assieme all'amico Boris Dvorzek che l'ha ricordato anche così su Facebook. Dispiace quando mancano, praticamente ha avuto un infarto dopo il derby la partita. Una leggenda per il mondo della pallamano, sicuramente viene a mancare una persona molto competente che anche soprattutto in patria era considerata una leggenda, per tutti sarà una grande perdita. Oltretutto anche ieri c'è stato un infarto del portiere del Porto, Alfred Quintana, che ci fa capire quanto siamo appesi a un filo ogni volta e per questo dobbiamo secondo me goderci lo sport, dobbiamo goderci queste emozioni e questa grande fortuna che abbiamo comunque di poter fare sport. Bene, entriamo nel vivo, parliamo di risultati, vediamo grazie all'aiuto della regia i risultati di questa giornata che era la terza di ritorno del campionato di Serie A Beretta, vediamo appunto si è giocato a Sassari che vince, vince bene, 30-23 a fondi, rinviata a Albatro Fasano, ricordiamo la positività di diversi giocatori del Fasano che gli ha costato anche la mancata qualificazione poi alla Coppa Italia, poi vediamo a sorpresa, poi ci dirai tu se è tanto a sorpresa, il Cingoli che batte il Cassano, il Cassano era reduce da questa finale di Coppa Italia, invece il Cingoli ha vinto, ha vinto anche una bella partita giocando bene, rinviate come si diceva a Piano Bolzano per la positività di 3-4 giocatori, mi sembra 4 della Piano, Siena Trieste rinviata anche questa, poi si diceva Bressanone che vince 24-23 col Pressano, una vittoria dove era avanti, poi a un certo punto si è trovata sotto, vedremo anche qui i riflessi filmati e poi la vostra vittoria del Merano sul Molteno 26-25 anche se eravate avanti praticamente dal primo all'ultimo minuto, l'ultimo gol loro se non sbaglio è arrivato a risultato acquisito. Vediamo la classifica con Bressano 29, giocate 16, Sassari 26, poi Siena 22, Bolzano 21, Pressano 20 e poi abbiamo il Bressanone con 17 partite giocate a 19, il Fasano a 18, Cassano e Merano 17, Trieste 14 e via via tutte quante le altre. Sembra un po' una classifica spaccata, fino a 17 ve la potete giocare, poi da 17 in giù il Trieste deve recuperare. Diciamo che ci sono tre comparti, il comparto dell'alta classifica che sicuramente ci sono le squadre che si contenderanno allo Scudetto con Conversano nettamente in vantaggio rispetto alle altre pretendenti, poi c'è il comparto centrale nel quale noi rientriamo seppur nella parte più bassa però siamo tutte lì a 3-4 punti quindi ogni partita può rivoluzionare questa classifica e poi c'è la parte bassa, la parte delle retrocessioni che credo che manchi anche poco per la formalità anche per quanto ci riguarda per uscire da questa zona. È una lotta soprattutto sotto che mi sta sorprendendo soprattutto Cingoli che secondo me ha ottenuto una gran bella vittoria su Cassano, ho visto la partita e la sconfitta a me personalmente conoscendo il campo di Cingoli non mi sorprende perché è un campo su quale quest'anno hanno perso punti credo Bolzano, Bressanone, abbiamo perso punti noi, ha battuto Cassano, è un campo difficilissimo. Conosco l'allenatore, Palazzi che è sicuramente un allenatore molto preparato, non mi sorprende, sicuramente Cassano venendo dalla finale di Coppa Italia o ha peccato di convinzione, di sicurezza, di eccessiva sicurezza nell'andare a Cingoli, cosa che credo più probabile perché è comunque una rosa estremamente completa quindi ritengo che la componente fisica che qualcuno magari ha sollevato in settimana o comunque dopo la partita credo che non sia il motivo reale. Cassano comunque rimane una squadra ad alta classifica, è un inciampo e noi sabato dovremo andare a Cassano, troveremo una squadra sicuramente ferita e si sa che un leone ferito è sempre più pericoloso, però noi andremo sicuramente a Cassano con la convinzione di portare via dei punti come abbiamo fatto Molteno. Tu parlavi di Cingoli, lo stesso Siracusa, era riduce da tre vittorie consecutive, ha vinto a Merano per cui è a nove ma comunque in teoria potrebbe rientrare nel gioco coinvolgendo poi anche a Piano e Trieste a questo punto che sono a 13. Diciamo che Trieste ha tante partite da recuperare quindi una valutazione su Trieste io la rimanderei perché bisogna vedere che risultati faranno nelle partite che andranno a recuperare. Siracusa dopo la pausa natalizia si è sicuramente ripresa, è venuta a fare punti in casa con Molteno, in casa nostra che sicuramente è stata una sconfitta pesante che ci ha recluso formalmente l'accesso alla Coppa Italia, a seguito dei casi Covid di Fasano siamo stati ripescati, però Siracusa può riprendere, può dare noia soprattutto tra le mura amiche. Quindi è una mina vagante, è una mina vagante cingoli, anche Fondi si è rafforzata con l'acquisto di due nuovi terzini di cui uno locale meranese matta e anche lì bisognerà vedere poi come si svilupperà il campionato, come riusciranno soprattutto a fare punti in casa. Vediamo il campionato di Serie A Beretta femminile, perché qua c'è una bella sorpresa, si dice anche qui ci sono state rinviate due partite per causa Covid, comunque il Malo vince 24 a 18 sul Nuoro, poi c'è stata sorpresa la vittoria del Mestrino sullo Derso, non so poi quanto sorpresa perché il Mestrino è una bella squadra, in semifinale di Coppa Italia aveva vinto solamente 7 metri, l'Oderzo che poi ha vinto la Coppa, Salerno-Erici è rinviata, Padova-Cingoli è rinviata, poi c'è stato il Pontigna che si dimostra matricola terribile che vince Cassano 21 a 16 e poi la bella vittoria del Bricks and Citroen sul Ferrara per 27 a 19, dopo una partenza disastrosa, erano sotto 9 a 3 le ragazze brissinesi, poi si sono riprese, hanno vinto con merito, vediamo la classifica, la classifica vede il Salerno raggiunto in vetta dal Bressanone a 30, l'Oderzo praticamente a 28, poi abbiamo l'Erici a 26 e via via tutte quante le altre, vedendo anche questa classifica e ripensando un po' alla Coppa Italia, un'occasione persa perché le ragazze di Ubinessin potevano veramente vincendo, probabilmente è il primo incontro col Mestrino, potevano giocarsi poi la finale, avevano le potenzialità di vincerla. Penso che Bressanone, la Coppa Italia si sta quasi rivelando un po' fatata, perché non dimentichiamo che erano, mi sembra, uscite anche l'anno scorso a Siena, nella Coppa Italia di Siena al primo turno, credo che sia prevalentemente un fattore mentale, perché comunque Bressanone ha una squadra completa, forse un po' meno rispetto all'anno scorso, perché ci sono meno straniere, qualche infortunata di troppo, quindi sicuramente anche da questo punto di vista non sono estremamente agevolate. Vedo un campionato femminile dove sempre Salerno, soprattutto hanno acquistato una giocatrice proveniente dall'Erice, la Kernic, che gli sta dando sicuramente grande compattezza, soprattutto in difesa. Per quanto riguarda la sconfitta dell'Oderzo Mestrino, personalmente, come dicevo, non mi sorprende, perché l'Oderzo è una squadra che si ha delle rotazioni, ma è un po' limitata, secondo il mio punto di vista, e si appoggia tantissimo alla Duran, che è comunque una delle migliori straniere del campionato. Fare una Final Six come quella di Coppa Italia, per chi ha rose molto ristrette, può rivelarsi controproducente in termini della partita di campionato successiva, Mestrino forse un po' più lunga, ed è più giovane, credo, se non mi ricordo male. È una squadra che comunque propone un tipo di gioco piuttosto veloce. Mestrino non dimentichiamo che nell'infrasettimanale veniva dalla sconfitta di Cassano, che quella sicuramente, credo che per l'ambiente di Mestrino, non abbia fatto benissimo, e quindi secondo me le ragazze avevano voglia di dimostrare che è stato un passo falso post Coppa Italia. Una vittoria importante che, pur Mestrino avendo pochi punti rispetto alla parte alta, gli potrebbe permettere di rientrare nelle parti alte della classifica. Vediamo rapidamente anche gli altri campionati, quelli di Serie A2, qui si è giocato. Allora, partiamo dalla Serie A2 maschile, vediamo finalmente la vittoria del Mezzocorona 24-23 su Romagna, poi il Torri che vince fuori casa sul San Vito Marano 25-21, la vittoria dell'Arcom 31-25 sul Vigasio, rinviata Oderso Leno, poi abbiamo il Colonia che vince 22-17 sul Ferrara, e il Tirol che perde con il Malo in casa 21-20, e il Crenna aveva vinto col Cassano con la seconda squadra 27-20. Vediamo la classifica, abbiamo il Malo a 32, poi via via scorrendo il Mezzocorona a 7, una vittoria importante che in qualche maniera la muove questa classifica, che l'abbiamo già detto più volte, il Mezzocorona dovrebbe salire. Ci dispiace vedere una squadra di quella caratura che è stata in Serie A1 fino a un paio di anni fa, navigare così, però c'è anche da dire che migliori talenti, tra l'altro anche uno IAC mette venuto a giocare a Merano e così via. Vediamo quella della 2 femminile, anche qui si è giocata la quinta giornata, abbiamo la vittoria del Mezzocorona che da un rullo compressore sull'Augen per 29-17, poi lo Scena che perde in casa con il Brunico 24-19, il Besenello, squadra che perde 8-29 sul campo Tures, e l'Agundo che perde in casa con il Brics & Citroën 26-16. Vediamo la classifica, qui Brunico, Mezzocorona, Paiate a 12, Tauvers a 8, poi abbiamo Scena a 6, Bressanone, l'Augen a 4, l'Agundo a 2, il Besenello a 0. Questo campionato si fermerà per le prossime settimane perché con l'ordinanza praticamente i campionati di A2 sono fermi. Siamo arrivati al momento del primo servizio filmato, abbiamo questa partita in casa del Bressanone femminile Brics & Citroën che ha giocato domenica pomeriggio, andiamo a vedere come sono andate le cose. Ritorno a non successo le ragazze del Brics & Citroën e lo fanno contro il Ferrara, vincendo per 27-19, pur con una partenza ad handicap. Evidentemente le tossine, rimediate dopo la fallimentare esperienza in Coppa Italia, devono aver pesato sulle gambe di Giada, Babbo e compagne. Partono decisamente meglio le ospiti che si portano a condurre per 7-2 dopo appena 10 minuti. Le ragazze di casa faticano a riprendersi e le esten si allungano ancora sino al 9-3. A questo punto Ubi Nessing chiama la carica e le sue ragazze finalmente si scuotono. Iniziano una prepotente rimonta che le porta a pareggiare proprio allo scadere della prima frazione. 11-11 è infatti il risultato con il quale le squadre vanno a riposo. In avvio di ripresa, intuizione di Nadia Pfalterer che al primo o secondo di gioco beffa le avversarie con una conclusione direttamente da metà campo. Il Ferrara pareggia sul 12-12 ma ormai la partita è in mano delle brissinesi. Da circoletto rosso la rete del 15-12 segnata da una positivissima Nadia Pfalterer. Il Ferrara si scuote, si avvicina sino al 15-17 ma viene ricacciato indietro da una sontuosa Sofia Ghilardi. Uno parziale di 3-0 e la partita è chiusa. Nel finale da segnalare ancora la rete capolavoro di Ghilardi alla minuto 27. Il match termina con la vittoria e il primato raggiunto per la squadra di Nessing che riprende così il cammino di crescita interrotto bruscamente a Salso Maggiore sette giorni fa. Io penso che eravamo ancora un po' con la testa della Coppa Italia quello che è successo la settimana scorsa. Sicuramente volevamo partire subito col piede giusto però secondo me eravamo un po' contratte e quindi con il minutaggio comunque ci siamo riprese e piano piano ovviamente andava meglio. Sicuramente non abbiamo sottovalutato la squadra del Ferrara perché sappiamo comunque una squadra che può fare bene può dare fastidio e noi durante l'intervallo ci siamo riprese e abbiamo detto dai andiamo possiamo farcela e ognuno ha aiutato l'altra e quindi alla fine è anche arrivata questa bella vittoria. La premessa di questa partita è che sappiamo che venire a giocare a Bressanone è sempre un campo difficile è una partita molto difficile non sono queste le partite che noi dobbiamo vincere e certamente proviamo a battere tutte le squadre sì come dicevi tu un primo tempo molto buono dovuto al fatto che abbiamo sprecato poco e abbiamo concretizzato molto che è quello che contro una squadra come questa si deve fare. Il secondo tempo è successo esattamente il contrario quindi abbiamo pasticciato un po' e Brixen è una squadra che non ti regala niente e ti punisce subito e sempre. Ecco abbiamo visto questa partita facciamo gli auguri anche a Monica Prinster che ieri aveva il compleanno e ha giocato pure infortunata comunque una bella vittoria una vittoria sicuramente importante per il morale erano partite come diceva giustamente Monica un po' contratte però credo che la superiorità tecnica del Bressanone si sia fatta sentire su Ferrara che non sta facendo sicuramente un campionato di vertice è una squadra rognosa soprattutto tra le mura del Palaboschetto di Ferrara e non era forse la partita del Ferrara diciamo così però Bressanone credo che ritrovando solidità non tanto dal punto di vista del gioco ma solidità dal punto di vista mentale credo che potesse essere una diretta concorrente per la vittoria al finale contro Salerno Ecco siamo arrivati al momento del primo stacco pubblicitario diamo la linea della regia e poi torniamo in studio com'è devo fare G.S. Group È tra le poche imprese della provincia ad avere requisiti richiesti per la sanificazione da agenti patogeni e virus Covid-19. I nostri atomizzatori di perossido o di idrogeno ci permettono in breve tempo e ad un costo contenuto di ottenere un risultato che rispetta tutti i protocolli sanitari. Non esitate a contattarci per rendere i vostri ambienti salubri e sanificati. Eccoci di nuovo in studio, adesso abbiamo parlato di pallamano femminile, adesso torniamo a parlare del vostro campionato, a parlare della vostra partita. Prima di commentare insieme vediamoci il servizio di Molteno-Merano. I diavoli neri espugnano il terreno del fanalino di coda Molteno e mettono una grossa ipoteca alla salvezza. Un successo di misura per 26-25 ma mai in discussione. I ragazzi di Jürgen Pratner infatti dopo un avvio equilibrato sino al 3-3 e poi al 5-4 hanno operato un break importante che li ha portati a condurre da prima sull'11-6 e quindi sul 13-7. Sugli scudi in questo frangente i fratelli Pratner, autori di gol pesanti. Nel finale del tempo il Molteno ha cercato di reagire ma i meranesi non hanno mollato riuscendo a mantenere sempre almeno 5 reti di vantaggio. Le due squadre sono andate al riposo sul 15-10 in favore dei diavoli neri. In avvio di ripresa i lombardi si sono fatti più aggressivi e determinati. Il Merano ha sbagliato tanto al tiro favorendo il rientro dei ragazzi di casa che a 12 minuti dalla termine si sono avvicinati sino al 18-21. Un parziale di 2-0 per i bianconeri e gli ultimi 10 minuti del match si aprono sul 23-18. Il Molteno non ci sta, Rande scompie degli interventi prodigiosi e la partita rimane aperta. A tre minuti dalla termine tocca a Leo Pratner a segnare la rete del 26-23, gol che di fatto chiude il match. Nel finale i padroni di casa accorciano sino almeno uno ma ormai non c'è più tempo. Il Merano vince con merito ed agguanta il Cassano in classifica. E proprio sabato prossimo ci sarà un'altra trasferta in Lombardia contro la corazzata a Maranto. Soprattutto nel primo tempo siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco, dove è andato anche abbastanza bene. Anche i più 5 dopo i 30 minuti confermano questo. Dopo il secondo tempo non voglio dire che ci siamo rilassati troppo, però c'era la reazione del Molteno, che sicuramente ha trovato in Daniele Solli un giocatore oggi in forma, ha fatto un'ottima partita. Poi l'altro personaggio era Randes, che io penso che anche quello che abbiamo costruito in attacco non era male, perché le occasioni chiare le avevamo costruite, però poi qualche tiro di troppo sicuramente per tutta la bravura di Randes, però da quelle posizioni bisogna avere una percentuale più alta e questo ha portato a che il Molteno si è preso coraggio, hanno iniziato a segnare anche da fuori, dalla distanza e poi alla fine la partita poteva finire anche diversamente. In primo tempo siamo stati poco aggressivi in difesa, eravamo troppo molli in alcuni punti, e gli abbiamo permesso di fare quello che volevano in attacco, di giocare con ritmo, di fare incroci, passaggi, senza fare anticipi, senza interrompere. Quando l'abbiamo fatto si è vista la differenza, nel secondo tempo l'abbiamo fatto bene, abbiamo preso 11 gol nel secondo tempo, quindi abbiamo difeso molto bene, molto meglio, eravamo più aggressivi, anche in attacco eravamo più incisivi, più decisi, era tutta un'altra squadra nel secondo tempo. Se devo parlare di questioni di partita ti dico questo, se devo parlare di altre cose, purtroppo ci siamo fatti nervosire anche oggi da alcune decisioni sul finale un po' scelerate. È mancato il buon senso anche oggi, secondo me, vabbè, abbiamo fatto gli ultimi sei minuti uno in meno, siamo riusciti a recuperare comunque, i ragazzi hanno dato tutto, il secondo tempo sono stati fantastici tutti, dal primo all'ultimo, anche chi non giocava, quindi ci sono state cose positive, se prendiamo questo secondo tempo è stato eccezionale da quasi tutti i punti di vista. Ecco, abbiamo visto anche questo sfogo di mister Onelli del Molteno, comunque il Molteno, se lo guardi sulla carta, è una formazione che non ci si capisce come mai sia lì in fondo la classifica, adesso è arrivato Knezzevic, Dedovic, Sperti, Soldi, Randes, cioè è una bella squadra. È una squadra che io a inizio campionato, anche quando mi era stato chiesto in un'intervista, un parere riguardo le neopromosse, io avevo dato Molteno come la squadra forse più forte delle neopromosse, appunto per questi nomi che sono andati a giocare, per questi giocatori che sono andati a giocare a Molteno. Il cambio di allenatore, quando è andato via lo Spagnolo, sicuramente è arrivato il mister Onelli che ha rivoluzionato dal punto di vista del gioco la squadra, però è una squadra che è rognosa, perché anche Sabato ha dimostrato che soprattutto fra le Muramiche può diventare rognosa, però è innegabile il fatto che un po' tutti, anche a seguito degli acquisti, come dicevi te, di Knezzevic, di Dedovic, nel mercato invernale, ci si potrebbe aspettare qualcosa di più. Quello che penso io è che conti molto l'amalgama, non solo a livello tecnico, ma anche a livello proprio di squadra. Forse non è una squadra che è riuscita a trovare la giusta alchimia e questo forse si sta facendo un po' sentire. Nulla a togliere comunque le decisioni della società, io personalmente ho molta stima dell'ambiente molteno, perché è comunque una società che sa fare la mano molto bene, a livello giovanile anche. Gli auguro di poter rientrare in una lotta concretamente per la promozione, e dopo saranno loro a conquistarsi o meno la salvezza. Per quanto vi riguarda invece un grandissimo primo tempo, secondo tempo, come ha detto Jürgen, vi siete fatti un po' grazie anche alle parate del portiere. Sicuramente il secondo tempo abbiamo delle percentuali al tiro che sono state inferiori rispetto al primo tempo, la condizione di Randers rispetto al primo tempo sicuramente salita, e questo è stato un limite nel poter altare il punteggio. Però obiettivamente noi dobbiamo continuare a guardare a noi stessi, dobbiamo correggere gli errori commessi, soprattutto a livello difensivo, a livello di collaborazioni difensive, perché sabato vogliamo andare a Cassano e giocarci le nostre carte, sistemando gli errori fatti sabato. Ecco, cambiamo argomento, passiamo di top 7, vediamo la top 7 di questa settimana, anche qui purtroppo con tre squadre che sono state impegnate, l'abbiamo composta così. In porta abbiamo voluto premiare Michael Ploner, poi vi spiegheremo anche il perché, anche se l'Oizos aveva fatto una prestazione con 18 parate al primo tempo, l'Oizos probabilmente è veramente il giocatore, il portiere più in forma di questo campionato. Poi alle ali abbiamo inserito Pivetta e Leo Prantner del Merano, come terzini abbiamo Dainese da una, Ciutra in mezzo e Max Prantner, quindi i due fratelli determinanti, con 5 gol a testa o 6 gol a testa, sbaglio, nella presa col Motteno. Pivot abbiamo premiato Maximilian Brugger, due gol ma una grande prestazione di sostanza in difesa, e poi concludiamo la famiglia Prantner con Jürgen come allenatore, che così abbiamo proprio l'end plan di famiglia. Cosa pensi di questa? Beh, penso che sicuramente la catena Prantner ha contribuito in maniera decisiva a portare a casa punti da Motteno. Guardando gli altri nomi mi fa piacere sicuramente vedere Ploner in top 7, anche se devo confermarti che se la valutazione della prestazione sicuramente avrebbe potuto premiare l'Oidus, perché veramente sta mostrando a mio parere, come ho già detto in altre sedi, di essere probabilmente il miglior portiere in questo momento che si ha in Italia per solidità. Brugger non è una novità a livello di giovani, è un pivot che lo reputo molto forte in difesa, deve crescere ancora in attacco, Pivetta lo conosciamo tutti, è ormai un giocatore navigato per il campionato italiano e anche Dainese si sta probabilmente facendo vedere qualcosa in più rispetto di quello fatto vedere l'anno scorso a Conversano, è un giocatore che io personalmente conosco molto bene, perché abbiamo condiviso sprazi di Nazionale Giovanile assieme e sapevo perfettamente che una volta che è entrato in condizione sarebbe stato un giocatore veramente importante per Pressano e lo sta dimostrando. Adesso spieghiamo il perché anche di Ploner, perché è un giocatore che gioca praticamente in difesa, c'è San Paolo, lui viene impegnato solamente a fare il cambio per i tiri dei 7 metri, guardiamo cosa ha combinato il sabato, praticamente è stato chiamato a parare i 7 metri e questo è il primo che ha preso, dopo un po' di minuti, secondo, è entrato, ha preso anche questo e poi praticamente ne ha preso, vediamo adesso, cambiamo, ha preso anche questo, praticamente, lui è entrato e ogni volta che è entrato aveva 4 tiri dei 7 metri, ne ha presi 4 su 4, per cui questo qui è anche il merito per cui è riuscito a entrare in top 7, ma anche, tu sei un portiere, puoi spiegarci anche cosa significa, quando il portiere chiede il cambio, esce in tra l'altro? Il cambio, diciamo, che viene fatto per non dare magari dei punti di riferimento, per cambiare la sensazione che il giocatore ha rispetto alla porta, personalmente, non so se in panchina ci fosse Wierer, mi sarei potuto aspettare inizialmente magari che entrasse Wierer, come per i rigori, però evidentemente la scelta dell'allenatore di far entrare Ploner, non è casuale, perché comunque ha parato i rigori anche uno specialista come Pascal Dantino, coltro il quale personalmente ho sempre trovato molta fatica a leggere i suoi rigori, perché è veramente uno specialista del nostro campionato, quindi questo va fatto... C'era anche Di Maggio, tra il resto... C'era anche Di Maggio, c'era anche Adriano, c'era anche Adriano, quindi diciamo che sono contento per la persona, perché è comunque un ragazzo che anche negli ultimi mesi si è un po' caricato la responsabilità del capitano, a seguito della partenza del vecchio capitano, e sono contento per lui, perché alla fine sono soddisfazioni. Ti puoi ritagliare pochi momenti di campo, almeno quei pochi momenti hai quel momento di gloria personale, mettiamola così. Che poi sono stati decisivi, calcolando che hanno vinto di uno. Calcolando che hanno vinto di uno. Vediamo la classifica dei marcatori, partendo da quella maschile, come si è mossa? Qui abbiamo sempre, anche se non ha giocato, Yardstam del Fasano a 127, Ciutura guadagna la sua seconda posizione con 116, Turcovic è fermo anche lui, e da Piranha 114, e via via poi tutti quanti gli altri, sono quasi tutti, erano quasi tutti fermi. Per contribuire a quella femminile, la Durand e l'Oderzo, 147, ormai praticamente in testa di tanto, resistono in terza posizione già da Babbo, e la Ghilardia a 113. Tu volevi prima citarmi la Soglietti del Ferrara? Sì, per me, io Katia la conosco, perché venendo dalla Romagna, comunque abbiamo avuto modo di potersi confrontare come allenatori contro, è una persona che io stimo tantissimo, perché è una persona che ormai, non è bello dire non una donna, però ha passati 40 anni, e vederla entrare nella classifica cannonieri, un atleta che ha una curia maniacale del proprio corpo, e della propria condizione atletica, è veramente bello, secondo me, perché ti fa capire quanto la perseveranza, l'attenzione e l'amor proprio, a livello, nello sport, alla fine renda. Ed è molto bello. Ricorda, nel maschile c'è Hannes Lang, che è più o meno la stessa età, Hannes quest'anno farà 44. Io, oltretutto, ho avuto il piacere di condividere, prima della mia esperienza, prima di due anni fa a Merano, ho avuto il piacere di condividere lo spogliatoio anche con Fabrizio Folli, che ha giocato fino a 43 anni, ho fatto anche la sua partita di addio, e sono figure, i giocatori, diciamo così, di grande esperienza, anche a livello d'età, che però ti danno tanto. Quindi sono figure di riferimento per ciascun ambiente nel quale opera. Tornando a Hannes Lang, l'ho incontrato per caso l'altra settimana, mi fa, c'ho qualche acciacco, non è che sarà l'Italia, si è messo a ridere, comunque gli auguriamo veramente lunga vita sportiva a questi atleti, insomma. Assolutamente. Siamo arrivati al momento del secondo stacco pubblicitario, diamo la linea alla regia, e poi torniamo in studio con l'ultima parte. Sono Marlene. Sono nata e cresciuta qui, in Alto Adige, nel cuore delle Alpi. Mio padre è il monte, grandioso e forte, saggio come il tempo. Mia madre è la luce del sole, il suo calore accarezza la mia pelle. Ora conosci le mie radici. Non sono una mela qualunque. Sono Marlene, figlia delle Alpi. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gustati le Dolomiti, ovunque tu sia. Kiko Apple Gin, di Rona. Quello che amo. Molto tirata. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Una sconfitta riapre il cammino in Serie A Beretta della Pallamano-Pressano-Cassa di Trento, battuta di misura per 24-23 sul campo del Bressanone al termine di una partita dominata dai padroni di casa di Ciutura, ad eccezione degli ultimi dieci minuti di gioco, quando i gialloneri di Fusina hanno sfiorato un altro colpaccio, clamoroso, come già accaduto durante la stagione, rimontando da meno 5 fino addirittura al vantaggio. Ma l'impresa è sfumata sul più bello e i gialloneri possono recriminare contro loro stessi. 22 palloni persi, ancora una volta una quantità esagerata, hanno inciso sul risultato. Pressano dunque si mangia le mani, avendo dimostrato negli ultimi minuti di poter fare decisamente meglio. In avvio di partita sblocca il match la squadra trentina, ma le assenze di Dallago e Moser, assieme a tante energie spese in Coppa Italia, rovinano l'approccio del team giallonero alla partita. Deboli in attacco, argentini e compagni non riescono a pungere e vengono salvati solo da un prodigioso Loizos tra i pali. Bressanone va così a condurre di quattro reti, parando anche ben quattro rigori e verso la fine del primo tempo arriva il massimo vantaggio, 12-7, perfezionato in 12-9 a fine primo tempo. Dopo una prima frazione insufficiente, Pressano rientra in campo, cercando di rispondere a tono, ma una buona Brixen con Amato e Ciutura non si fa intimorire. Fallite due occasioni del meno uno, i gialloneri sembrano cedere e scivolano a 20-15 in a metà della ripresa. È ancora un incredibile Loizos tra i pali a evitare la figuraccia, ma altrove Pressano appare opaco, stanco ed emotivato. Ma come più volte è avvenuto, nel momento più difficile i gialloneri si risvegliano. Dainese sono alla carica, la difesa lavora a dovere e fra il cinquantesimo e il cinquantottesimo Pressano infila un clamoroso parziale di 2-8, portandosi addirittura in vantaggio per 23-22. Gli spettri della rimonta giallonera dell'andata si concretizzano a Cabressanone, ma i locali questa volta rendono panna per focaccia. Nella franesia dell'ultimo minuto, Basic e Ciutura ribaltano tutto, firmando il successo a pochi secondi dal termine. Il Pressano ora è atteso al match casalingo sabato prossimo contro l'HC Molteno, fanalino di coda, poi il lungo stop per la Nazionale. La testa oggi penso che non è stata dove deve stare. Loro hanno giocato senza dal lago e forse che questo affetta. Veramente non capisco perché è stato molto insistito che dobbiamo stare concentrati, dobbiamo fare la nostra meglio partita, indipendentemente di quello che fai o come stai a Pressano. Oggi penso che noi abbiamo fatto lo che abbiamo detto in spogliatorio tutta questa settimana e prima di partita per fare. Anche così in momenti difficili la squadra è stata brava insieme, ha fatto un'importante difesa, dopo un gol e abbiamo vinto. Sì, diciamo che oggi è stata abbastanza una partita equilibrata, siamo sempre stati anche bravi all'inizio, però abbiamo perso tantissimi palloni e quando perdi troppi palloni è impensabile poter vincere contro una squadra come il Bressanone. Abbiamo visto questo servizio, il Bressanone è comunque una squadra che a un certo punto ha ingranato, sta facendo punti su punti. È una squadra che sicuramente dopo il periodo Covid del periodo di novembre-dicembre si sta riprendendo, so che sono rimasti a lavorare tutto il periodo delle vacanze invernali, credo che questo gli abbia dato un vantaggio. Merito loro della scelta societaria è sicuramente quello di voler lavorare e sfruttare tutto il periodo invernale, a differenza di quasi tutte le altre squadre. È una partita per Bressanone che sicuramente rispetto alla Coppa Italia gli rilancia anche un'ottica di alta classifica. È una squadra che ho sempre reputato molto completa e diciamo che la prima parte di stagione non ha reso onore merito al valore forse della squadra. Pressano è comunque una squadra che ha giocato tre partite una settimana fa, l'assenza di Dallago e di Moser, ma soprattutto quella di Dallago, è fondamentale per loro, è molto pesante perché loro hanno una struttura di gioco che verte tantissimo sulle collaborazioni tra i terzini, sugli incroci e la sua assenza secondo me è stata molto importante ai fini del risultato che poi dopo li ha visti perdere. Comunque sono due squadre, Pressano e Bressanone, che occupano già i quartieri alti della classifica. Soprattutto il Pressano è una sorpresa, tra virgolette, quest'anno. Pressano ha riuscito a trovare, forse dopo la partita, la sconfitta in casa nostra, partita nel girone d'andata, sono riuscito a trovare un'amalgama ancora di più, una solidità, sia a livello difensivo, secondo me molto riconducibile al valore del portiere di Loizos, e a livello offensivo hanno comunque la loro coralità, il loro ritmo di gioco. Il mister Fusina è stato bravo sicuramente in questo, ed è una squadra che può dare delle rogne a tutti. Può dare delle rogne a tutti, è difficilissimo fare punti a Pressano, tant'è che mi sembra che in casa abbiano perso uno o due partite, non mi ricordo esattamente, se non addirittura non ne abbiano perso, non mi ricordo con esattezza. È una rogna, noi dovremmo andarci a giocare a Pressano. Ecco, siamo arrivati al momento della Stube, questa volta Luca Borisegna ha voluto incontrare una ala del Bressanone, puoi già immaginare chi è, andiamo ad ascoltarcelo. Cari amici della Pallamano, bentornati alla Handball Stube Home Edition, oggi con me l'ala del Bressanone Riccardo Di Giulio. Ciao Riccardo. Ciao Luca. Riccardo come stai, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Mi sta meglio dopo una bella vittoria in casa? Sì, si sta meglio, era una vittoria che volevamo. In passato queste partite qui le abbiamo perse, ci sono state diverse partite che abbiamo perso di un gol, abbiamo perso di un gol a Siena, abbiamo perso con il Pressano, tempo scaduto, abbiamo perso con il Cassano di uno, con il Fasano di uno, molte partite le abbiamo perse di un gol. Vincere ci serviva, anche perché siamo praticamente a un passo dalle zone un po' più alte della classifica. Certo, gli obiettivi di inizio stagione erano altri, poi la stagione tra Covid e alcuni infortuni e tutto, ci hanno un po' complicato la stagione perché noi sotto Covid abbiamo avuto molta sfortuna perché ogni settimana usciva una persona diversa, non abbiamo mai potuto allenarci tutti quanti con costanza. L'unica volta è stata proprio dalla pausa natalizia, quindi da lì abbiamo avuto un cambio di marcia perché ci siamo allenati anche sotto le feste e lì abbiamo avuto modo di avere continuità. Adesso speriamo di continuare così, almeno di accorciare e di arrivare più in alto possibile. Sì, perché voi eravate partiti ovviamente con altre ambizioni, poi come dici tu, tra Covid e difficoltà di allenamento e cose, è stata una stagione di guida e ludente. Poi siete riusciti ad entrare in Coppa Italia e lì forse ci si aspettava qualcosa di più. Sì, siamo arrivati all'inizio stagione con acquisti importanti, ci siamo rinforzati. Abbiamo perso, c'è da dire, Uros, Lazarevic e quello ha influito molto, davvero tanto. Sai un po' l'umore che non era al massimo, perdi tante partite in casa, tante partite di uno e lì ti fa male perché capisci che perdere di uno nei minuti finali, in molte partite, ti fa capire che c'è qualcosa che non va. Siamo arrivati in Coppa Italia molto carichi, certo, ha influito, tra virgolette, il cambio di tabellone, noi eravamo concentrati, ma come anche le altre spalle, sul Conversano abbiamo lottato, non abbiamo mai mollato. Il Sassari ha giocato bene, noi per un buona parte del primo tempo abbiamo retto praticamente la partita, loro hanno pareggiato qualche secondo dalla fine, poi il secondo tempo siamo partiti in inferiorità numerica, due doppie inferiorità numerica, lì abbiamo perso palloni e una squadra come Sassari ti punisce, quindi abbiamo la palla del meno uno, agli ultimi due minuti abbiamo sbagliato e lì dal possibile meno uno siamo andati di nuovo sul più tre e queste cose ti condannano. Invece tornando a sabato scorso, è una vittoria che può forse invertire il trend, questa volta siete stati voi a vincere all'ultimo secondo, insomma, quella palla. Sì, è una partita che abbiamo vinto, certo, una partita che sicuramente dobbiamo rivedere perché troppi errori da parte nostra al tiro, abbiamo sbagliato penso sopra i 20 tiri molti dai 6 metri, palle perse, queste cose non possono accadere, però rispetto al passato nel girone di andata queste partite veramente l'abbiamo perso, di uno all'ultimo e abbiamo vinto e questo sicuramente fa morale, abbiamo accorciato su molte squadre, abbiamo allungato su altre che hanno perso e quindi questo può far sicuramente bene e sono convinto che questa partita ci serve molto da lezione. In chiusura, su di te, tu oramai sei Bresinese da deduzione, ti trovi bene, vero Presanone? Sì, sì, mi trovo bene, si può lavorare bene anche con i compagni, devo dire, no, mi trovo veramente bene, quindi è un ambiente sereno. Purtroppo quest'anno è un anno che è molto complicato per situazioni Covid, non puoi essere lì con il pubblico, qui in Alto Adige, sai, molti posti sono chiusi, quindi è tutto un po' complicato. Poi da voi il pubblico è un fattore determinante. Sì, è un fattore determinante, ti dà quella carica in più. Certo, il pubblico non ci fa mai sentire comunque la mancanza anche dal di fuori, quindi si sente proprio il tifo, anche se purtroppo non possono essere lì a sostenerci, però comunque il sostegno ce lo fanno comunque sentire in altri modi. E quella è la cosa più importante per voi giocatori. Sì, questo è importantissimo. Riccardo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, faccio un brindisi virtuale come di consueto e niente, speriamo di vederci al più presto sui campi. Speriamo, me lo auguro. Alla tua, salute. Alla tua. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ecco, abbiamo sentito il Terramano Doc di Giulio. Stavi dicendo a microfoni spenti che la prima partita di Serie A ti ha fatto un mazzo così. La prima partita in Serie A, tre anni fa, quando ero piccolo, avevo 18 anni, l'abbiamo giocata contro il Terramo dove c'erano ancora i fratelli di Marcello e io questa ala non la conoscevo. Mi ha fatto un paiolo tanto. All'andata hanno vinto a Imola loro, al ritorno abbiamo fatto l'impresa noi a Terramo. Quindi è stato un bel ricordo, insomma, di Riccardo. Lo conosco bene, è un bravo ragazzo, un'ottima ala e sono contento sicuramente che si sia ripreso innanzitutto dal Covid e che comunque è un giocatore che può dare un apporto importante alla sua squadra. Ottimo. Siamo arrivati al momento di vedere i gol e le parate selezionate di questo fine settimana. Ricordiamo poi si può votare per una settimana sulla pagina Facebook, ha tanto successo, poi a fine mese poi verranno i migliori, faremo la votazione ai tecnici di quale sarà il migliore. Vediamo i gol selezionati di quest'ultima giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccolo, da portiere, cinque gol diversi, diversi anche per importanza. Abbiamo inserito quello di Sofia Ghilardi che è andata a togliere le ragnatele dall'incrocio, l'ultimo era il sette metri decisivo che ha dato la vittoria, quindi con freddezza ha fatto il pallonetto. Spiegaci un po' qual è il tuo preferito. Il mio preferito è quello, sarò di parte, ma è quello di Martini, perché lì è stato bravo a crederci. Era una palla buttata in mezzo all'area, lui è riuscito ad arpionarla e a fare la contro-girella in contro-movimento rispetto all'avanzamento del portiere. Diciamo un rapace d'area, come si potrebbe dire nel calcio, sicuramente il gol della Ghilardi è molto bello. Per importanza forse dovrebbe scegliere quello di Ciutura, anche se comunque lui è uno specialista dei rigori. Non dimentichiamo che fino a un anno e mezzo fa era il capocannoniere della Zobal per la sua squadra, quindi non parliamo di chicche, parliamo di un signor giocatore di grandissime esperienze. Poi avevamo i due, quello di Pivetta dall'ala e quello di Dainese, anche inseriti tra i migliori gol. Quello di Dainese era il suo tiro, quello lì, lo riconosco, sicuramente è stato un bel gol. Pivetta dai sei metri è una garanzia, quindi non mi meraviglia vedere un gesto tecnico di quel tipo da lui. Andiamo a vederci le parate, che queste ti chiamano in caso in prima persona, anche vediamo le cinque parate scelte per questa settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco Lollo, la preferita, tolta la tua, anche se comunque Vedele era molto bella. No, la parata è sicuramente stata una buona parata e è stata una parata importante, perché è fatta in un momento nel quale Molteno era a meno tre, se subivo gol andavano a meno due, avevano avuto altri due attacchi, quindi sicuramente è stata una parata importante. Però, come ti dicevo anche mentre vedevo il video, senza ombra di dubbio la parata più bella è quella di Loizos, perché riesce a mantenersi eretto col busto, riesce a seguire il tiratore, a seguirlo, a seguirlo e poi allungarsi con l'estensione del braccio destro. È sintomo veramente di grande conoscenza della tecnica e soprattutto della posizione in relazione al braccio di tiro. E come ho già detto anche prima, Loizos si sta veramente dimostrando il portiere più forte, secondo me, di questo campionato, per costanza e anche secondo me per tecnica. Lo apprezzo, mi piace tantissimo questo portiere. Ecco, io ti ringrazio. Il tempo purtroppo corre, come sempre, quando è piacevole chiacchierare. Io ti ringrazio della visita, ti faccio l'in bocca al lupo per il proseguo, per partire da questa sfida di Cassano di questo sabato. Io, grazie e grazie di essere intervinto. Grazie a te, Walter, grazie dell'invito e alla prossima. E crepi il lupo soprattutto per Cassano. Ecco, io ringrazio ovviamente tutti coloro che ogni settimana contribuiscono alla realizzazione di 7 metri e le amiche e gli amici della Palamano d'appuntamento fra sette giorni qui su Video 33. Ciao, ciao a tutti e alla prossima. Ciao, ciao a tutti e alla prossima.